Avevo promesso che avrei fatto dei video anche dove parlavo a livello personale di cose mie e finora non l'ho quasi mai fatti questi tipi di video. Sì, ce ne sono un paio sulla storia della mia vita che comunque più o meno vi racconterò il 3-4% quindi di quello che comunque è stata la mia vita in passato. Io ho vissuto in Romania e diciamo che non solo in Romania ho vissuto, ho vissuto anche un paio di anni nelle Repubbliche Baltiche ho vissuto circa tre anni in Germania, sì più o meno tre anni in Germania, l'ultima volta un anno a Ludwigshafen, Amrhein. In Romania sono stato nell'anno 2000, 99-2000, quell'anno lì e quella era diciamo una Romania molto differente rispetto alla Romania che c'è oggi perché oggi la Romania che c'è oggi è diventata una Romania dal mio punto di vista meno umana dove c'è oggi è una Romania dove c'è oggi una Romania molto più neoliberista, una Romania molto più dove c'è meno umanità dove secondo me con questa follia della corsa al denaro, poi denaro si fa per dire perché poi in Romania gli hanno portato via tutto e oggi con il costo della vita che c'è oggi con il costo della vita che c'hai in Romania che è più o meno similare a quello italiano e con degli stipendi che tutto sommato sono penosi quindi fare l'operaio in Romania non è il massimo, ok? Anzi, anzi, quindi costo della vita aumentato, tutte le zero una volta comunque ci avevano la possibilità di fare le cure termali, due settimane pagate al mare, la casa adesso ti devi pagare tutto vabbè, altronde, ascolta, hanno... si sono voluti suicidare, cazzi loro, alla fine io ero là quando è arrivato Bush, adesso non mi ricordo più se era l'anno 2000, io ero là, vivevo là c'erano centomila romeni che sono andati ad ascoltare quello che li stava portando via tutti e li ha fottuti cioè io sono rimasto scioccato in quel periodo lì, sono rimasto veramente scioccato quindi la Romania che io ho vissuto, dove ho vissuto, era una Romania differente anche se già al tempo in Romania, specialmente a Bucuresti, girava questo modo di dire che era... non venite in Romania, sono un forte smeccheria, noi non venite in Romania, noi siamo furbi diciamo che già all'epoca girava questo concetto della smeccheria, di questo fatto che noi siamo furbi ragazzi noi siamo furbi, 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 svenduto la nazione a Soros, svenduto la nazione alle multinazionali svenduto completamente tutta la flotta commerciale, distrutta l'economia nazionale distrutte tutte le fabbriche nazionali, hanno accolto quello che li hanno portato via tutto applaudendolo però non venite in Romania perché sono un forte smeccheria, noi siamo furbi ragazzi ci siamo fatti fottere tutto, ci siamo fatti portare via tutto, non abbiamo più uno stato sociale andiamo a lavorare per un pugno di rise, però non venite in Romania perché siamo un forte smeccheria ok? ma, ma, niente, comunque adesso vi parlo della mia vita in Romania e comunque come avevo detto in precedenza quando parlerò di cose mie personale lo farò solamente, diciamo, anche perché devo dire delle cose un po' particolari mie lo farò ovviamente solo per i miei iscritti a Patreon, ok? poi, ripeto, altri video più leggeri, compagno a varia, continuo a metterveli su YouTube però questa parte dove parlo della mia vita in Romania parlo con i miei iscritti di Patreon è stato un po' particolare